ciao a tutti io sono sempre gaia o se preferite intuitive writer e vi do il bentornati sul mio canale se invece devo dirvi benvenuti allora vi consiglio di chiudere questo video e di ricominciare dall'episodio zero della serie che state ascoltando se no non capirete niente di ciò che dirò fra poco soprattutto se fate già parte della community mbti per chi è già dei nostri invece oggi vi propongo un breve episodio di transizione in un certo senso prima di iniziare a trattare i 16 tipi psicologici un episodio comunque molto importante per inquadrare meglio l'argomento di cui stiamo parlando in questi podcast strutture non strumenti personalmente non amo molto la parola funzione poiché credo che sia in parte per via di questa se con il metodo mbti sia arrivati a sviluppare certe idee in merito alle funzioni cognitive come quella di poterle usare o che agiscano separatamente le une dalle altre però è così che sono conosciute ormai e ovviamente è questo il loro nome originale quindi per sottolineare ancora una volta l'ultima spero come le funzioni siano in realtà più una sorta di strutture all'interno delle quali si svolgono le attività psichiche o se preferite un modus vi lascio questo capitolo con una breve lista di cosa non sono le funzioni l'attenzione non è una funzione uno degli stereotipi più diffusi su internet è quello secondo cui alcuni tipi gli ne o estroversi intuitivi in particolare abbiano un livello di attenzione più basso rispetto agli altri se con attenzione intendiamo quella per i dettagli allora sì certo ma l'attenzione non la si può rivolgere solo ai dettagli gli intuitivi ad esempio sono più bravi a seguire i discorsi su concetti astratti lo abbiamo già detto no ogni tipo è interessato a cose diverse quindi ognuno di loro tende a notare cose diverse la creatività o immaginazione non è una funzione una delle ragioni principali per cui moltissimi tps si identificano erroneamente come tpn è l'inesatta concezione secondo cui la creatività e l'immaginazione siano prerogative degli intuitivi ma jung stesso nell'undicesimo capitolo del suo libro sottolinea come l'immaginazione sia una caratteristica associabile a ognuna delle funzioni cognitive ogni tipo quindi può essere creativo in base a ciò che gli interessa c'è chi ha una creatività mossa dalla sensibilità sensoriale chi ha un'immaginazione legata alle persone chi ha i concetti chi ha gli schemi e così via la memoria non è una funzione il fatto che i tipi sj abbiano la tendenza a preservare e consolidare i metodi le idee le relazioni e le storie ha probabilmente portato ad associare la funzione si alla memoria ovviamente non è così ogni tipo ha una memoria ferrata in ciò che gli interessa mentre tende a dimenticare ciò per cui non ha un'attitudine potreste tranquillamente trovare un e ntp con una memoria complessivamente migliore di quella di un is f j le emozioni non sono una funzione sebbene sia certamente più emotiva la funzione f non è legata tanto alle emozioni quanto piuttosto ai rapporti umani in generale è una funzione interessata alle persone e ai valori più che agli incarichi o alle idee ognuno di noi ha delle emozioni indipendentemente dal nostro tipo psicologico diamine persino gli altri mammiferi non umani hanno delle emozioni essere privi di emozioni o non in grado di riconoscerle non fa di noi dei tipi t ma delle persone con seri disturbi fisici e mentali poiché queste non sono altro che delle reazioni psicofisiologiche a particolari situazioni l'intelligenza non è una funzione più di una volta mi è capitato di leggere articoli in cui veniva illustrata una correlazione tra il quotiente intellettivo alto e determinati tratti psicologici i t n e p il problema di questi studi però è che viene intesa come intelligenza soltanto quella di tipo logico e intuitivo che non è affatto l'unica esistono molti tipi di intelligenza interiore sensoriale logica sociale emotiva accademica deduttiva induttiva artistica e così via e ogni tipo psicologico è più portato verso una o più di queste come disse einstein se giudicate un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero passerà tutta la vita a credersi uno stupido le funzioni non sono degli strumenti poiché non sono delle abilità ne viene da sé che le funzioni non sono oggetti o strumenti a nostra disposizione molto spesso su internet si sente parlare di ti ai users o n ai users e così via o di persone che sanno usare bene le loro funzioni inferiori ma come abbiamo già detto le funzioni sono strutture non strumenti e quelle inconsce sfuggono quasi totalmente al nostro controllo le funzioni non si scelgono il fatto che le funzioni ci mettano un po' a differenziarsi non implica che possiamo sceglierle non possiamo scegliere che cosa vogliamo essere possiamo soltanto cercare di diventare la migliore versione possibile di noi stessi sarebbe come pretendere di trasformare i limoni in arance con la pura forza di volontà non puoi puoi solo fare la limonata migliore che ti riesce non sei tu a scegliere verso cosa è sintonizzata la tua attitudine innata certo puoi provare a prestare attenzione e interessarti ad altre cose o a liberarti dei programmi mentali inutili o nocivi questo sì certamente ma la tua attitudine in realtà rimane sempre quella le funzioni non sono componenti isolate o ingredienti le funzioni cognitive non sono come ingranaggi di una macchina o ingredienti di una ricetta non le puoi mischiare aggiungere sottrarre sostituire o scambiare non stanno impilate le une sulle altre funzionano tutte contemporaneamente sempre in maniera dinamica e interconnessa l'essere umano non è né una macchina né una ricetta le funzioni non accadono poiché non sono delle abilità e non si manifestano isolatamente le funzioni cognitive non si possono ricollegare a dei comportamenti ben precisi o a certi episodi perciò non fatelo sul web si trovano spesso dei meme del tipo la mia ti dice questo ma la mia fe dice quest'altro intanto la mia si fa questo no non esiste questo significa non aver capito che cosa sono le funzioni ok per oggi basta così immagino che anche questo episodio sarà molto breve ma vi assicuro che è uno dei più importanti ve ne renderete conto molto presto o magari in un futuro più lontano questo dipende da voi come sempre vi ringrazio per avermi ascoltata spero di essere stata d'aiuto e per supportarmi vi invito a lasciarmi un commento o mi piace e a condividere il video iscrivetevi invece se volete ricevere notifiche e aggiornamenti i miei contatti sono giù in descrizione alla prossima